salve a tutti buon martedì spero che stiate vivendo bene questo periodo di caos che sappiamo e che vediamo però come si sa c'è sempre un motivo di queste cose quindi vi dico di essere sempre equilibrati e sempre tranquilli e osservare beh oggi vorrei fare un qualcosa di criptico perché non è possibile andare a essere più chiari anche perché tra l'altro in una trasmissione precedente un po di tempo fa è stato fatto qualcosa di più chiaro e ci sono stati ci sono sempre vari problemi che poi avvengono però non è neanche questo è questione di avere il permesso di non permesso di farlo ma anche il fatto di non come si dice disturbare la mente delle persone quindi bisogna essere attenti quando si parla molte persone non lo sanno forse oppure non si rendono conto che parlando hanno un potere enorme specialmente in questo periodo prima questo potere enorme era riservato a persone che si sperava perlomeno fossero di un livello alto non i filosofi conoscitori politici molto raffinati che poi positivo e negativo non possiamo neanche dirlo oggi il microfono in mano a tutti di conseguenza le persone specialmente di questi periodi dicono tutto quello che li passa per la mente ma bisogna essere attenti perché il potere della parola è magico una parola ben detta e ben sistemata può trasformare completamente la coscienza può deviare una vita può portare chi l'ascolta a nuove scelte e nuove idee nuove situazioni a stravolgere completamente le proprie sicurezze quanto spesso ci spesse volte ho letto che qualcuno è stato modificato interiormente dalla lettura di un libro addirittura anche da una poesia e cose varie quindi quello che dirò oggi lo dirò in chiave criptica perché non si può dire diversamente quindi parlo degli esempi poi basta applicarli questi esempi perché alla fine sia la bibbia se la vediamo in maniera di livello più alto sia la divina commedia sia l'iliade l'odissea tutti i testi antichi noi veda tutto ciò che dall'oriente all'occidente sono scritti nelle quattro capacità e quattro possibilità di poter spiegare almeno prima si scriveva così oggi vabbè oggi no però un tempo c'erano quattro spiegazioni di ogni cosa scritta uno che andava a collegarsi a ciò che vengono chiamati gli antichi la terra ma in realtà si indicava le persone che riuscivano ad afferrare solo il senso terrestre delle cose uno a ciò che era legato e si veniva detto all'acqua ossia a quello che veniva afferrato solo come immagine mentale emotività della trattazione quindi psichismo direi più che altro un altro veniva detto che era il livello aria ossia per dire che era sottile come il pensiero penetrante come il pensiero e quindi molto intellettuale non possiamo avere un'idea di questo nella filosofia mentre quello precedente possiamo averlo nella nelle opere di poesia nei romanzi molto diciamo cappe e spada se voglia poi c'era il livello più alto livello completamente esoterico che era dato a persona dato era scritto quindi poteva essere interpretato da persone che sulla strada erano magari più mature perché avevano magari vissuto di più non solo in una vita ma in tante e quindi il livello fuoco ossia il vero significato spirituale la vera verità che non si può dire perché perché non è capita non è che non si può dire ci non si può dire una persona guarda che se già libero sei libero completamente libero c'è tu pensi di non essere ma lo sei allora la persona non prende a livello intellettuale lì da si sono libero per una realtà non lo è perché non ha realizzato le condizioni della libertà e quindi lo vediamo per esempio nel neoadvaita o che dice siamo tutti liberi minuti pur che facciamo le cose sì le persone continuano a soffrire quindi ecco che oggi parlerò in maniera un pochino diciamo aria ecco in modo che voi prendiate i significati che dico e li applicate le applicate alle situazioni altro non ho potuto avere io spingo spesso per avere più possibilità di dire tante cose sto parlando molto del cinema e sto mettendo in ballo i film e le metterò ancora di più perché lì c'è il messaggio chiaro che ciò che alcuni chiamavano chiamavano la fratellanza bianca e cose varie o se chi veramente a cuore la difesa e della vita e l'evoluzione dell'umanità no tenta di dimettere un po di qua e di là uno fra tutti per esempio non so se vi ricordate poi parteremo di della cosa criptica uno fra tutti per esempio non so se vi ricordate il film zombie wars z con il simbolo z era un film di qualche anno fa e parlava di questa guerra tra zombie umani che venivano che avveniva partiva dalla sudafrica e poi si risuoveva con un vaccino però poi questo vaccino era dei problemi quindi lì per esempio c'era già la z no che poi vediamo in questi giorni e questo ma ne parleremo intanto magari ve lo andate ve lo andate a vedere oppure per esempio un altro film c'è particolare con willy smith come protagonista e ne parleremo anche in cui si vede le carte d'identità nato l'11 settembre oppure matrix come vi ho detto il numero uno in cui il passaporto lì di ma di 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 mio scade l'11 settembre che ricordatevi che in un film non vengono mai messe le cose a caso c'è proprio ci sono quelle senza soldi che dicono magari prendo una location qualsiasi una stanza qualsiasi e adatto ma chi ha soldi non lo fa mai quindi la z nei film indica qualcosa di particolare quindi lo stiamo vedendo adesso e lo vedremo ancora più più in là quindi tutto quello che io vi dimostrerò che tutto quello che sta succedendo ripeto ve lo dimostrerò è stato detto nei film per avvisare le persone per abituarle a ciò che è ciò che ora amerei parlare di iniziazione amerei parlare di alchimia amerei parlare di magia amerei parlare di teologia amerei parlare di questi argomenti ma tutti mi spingono mi chiedono mi capisco e quindi per un po ho detto va bene dai parlo anch'io sulla falsa riga degli altri modo che possiamo possiamo dare più più informazioni possibile parleremo anche della z parleremo di tutte queste cose quali andremo a vedere direttamente ma più che dietro le profezie se world world z le profezie non esistono non ci sono le profezie cioè profezie sono almeno queste qua no attuale tutto sempre generato quindi anche se io do la capacità alle persone di vedere qualcosa a miliardi di persone film che accade un disastro disastro casa perché lo insemino nei corpi lunari delle persone questo lo fanno cadere così come l'epidemia zombie di cui parlano sempre ma prima o poi avverrà zombie non tipo una persona che si sveglia dalla morte non vedete in questa maniera zombie una persona che non ha il controllo di se stesso e quindi è possibile dirigerlo zombie può essere anche chiamato uno che è diretto che etero diretto da varie onde magnetiche per esempio zombie sono stati coloro che hanno assassinato leader politici che hanno avuto il momento di hanno ucciso quindi lo zombie non è come lo possiamo immaginare nella nella cultura v2 cose varie zombie è colui che non ha la capacità di autodirigersi gli esseri di adesso non hanno la capacità di autodirigersi però voglio cominciare quindi sono zombie quindi cominciamo a dire questa cosa qua immaginate una mente vedete questo è un messaggio criptico immaginate una mente quindi ricordi visionario il film sì sì però lo guarderò volentieri anzi se hai un link magari dopo passare che sia però una cosa che non ci blocca nel canale ve lo ricorderò quindi ora parliamo di questa cosa qui è certo che la chiamano generazione z e ci sono motivano ricordo che per uno strano caso nella cabalà la z corrisponde la zain una spada un ago una puntura un pugnale o qualcosa che entra dentro per inciso eva corrispondere ai gemelli va a corrispondere a tutto ciò che riguarda i bambini che nascono gemelli e cosa e cose varie immaginate poi ne parliamo immaginate una mente la vostra mente va bene questo vi sto dicendo che cosa accadrà però lo posso dire solo in questa maniera e questa cosa l'ho detto dieci anni fa cosa stava accadendo adesso tre anni fa molti mi hanno deriso sta accadendo date a vedervi le cose di otto nove anni fa quando ancora abitavo in ungheria e vedrete quando nessuno poteva pensare una cosa simile che quindi quello che vi dico accadrà immaginate questa mente la vostra mente il vostro cervello che nato come volete immaginate che vi siete alzati la mattina e la mattina avete la mente fresca poi immaginate che durante la giornata cominciano ad arrivare i primi pensieri le prime idee immaginate di di avere sempre più pensieri nella mente come tanti punti che urlano come tanti esseri automatici che parlano da sé che fanno le cose da sé ognuno fa le cose da sé quindi crea e genera come realmente delle sub personalità o micro personalità invece la vostra personalità riccardo villanova dentro c'è la personalità ne parlai tempo fa nelle tecniche di programmazione la personalità dell'amore la personalità della sessualità personalità del cibo la personalità della difesa la personalità tutto questo micro personalità che noi tutti abbiamo che ci servono per vivere ma immaginate che c'è di più immaginate che nella vostra testa vi viene un'idea voglio andare a comprarmi un gelato faccio spesso questa però poi dico più fermate noi meglio non comprare il gelato poi un altro ancora perché non deve comprare il gelato poi un altro ancora ma forse se compro il gelato alla vaniglia e meglio un altro no forse se meglio meglio quella al cioccolato poi ancora un'altra un'altra voce ma forse ma ti devi sbrigare vai a comprare il gelato poi un altro no ma se vai a comprare il gelato guarda che ci può essere un incidente poi un'altra cosa ma quanta che se non vai a comprare il gelato poi non avrà l'energia sufficiente non ma guarda che se va a comprare il gelato invece c'è mai troppa energia troppi zuccheri potresti stare male no ma guarda che quando immaginate questa cosa non sapete questo moltiplicate lo per il gelato per andare a comprare la spesa per vedere un programma per fare qualsiasi cosa immaginatevi nella vostra testa c'è questo di cosa avreste bisogno avreste bisogno di tranquillità e la tranquillità come si genera o vi calmate da voi stessi molto difficile se non lo sapete o prendete delle medicine se qualcuno vi vede agitati e allora si preoccupa la vostra madre vostra padre il vostro innamorato la vostra innamorata prendete una camomilla prendete la valeriana prenditi ti fa calmare non ti abbraccia ti tranquillizza e cose varie cosa ammazza esci comincia a fare il pazzo ti sparano perché comincia a fare il pazzo allora in questa mente immaginate questo caos ogni punto di pensiero è un pensiero che è autonomo e quindi si genera ciò che viene chiamata un un circolo vizioso non un circolo virtuoso di idee perché ogni idea ne genera infinite io posso volete un esempio mucca pelle della mucca zampe della mucca zoccoli coda corna e occhi della mucca latte mammelle poi ci fermo lì mi fermo qui e ho idea no pelle della mucca una specie di usano per mettere a terra per coprirsi le corna lo usano per questa cosa il latte quante cose si possono fare vedete quante allargamenti zoccoli ce l'hanno anche gli altri quindi cavalli tori cose varie come lo è ruminante quattro stomaci e come se allarga c'è poi potete arrivare in una maniera quindi un'idea ne genera tante altre questo porta caos porta allora cosa succede succede che quando vedi che l'ecologia è un pochino se vedi tanti il tuo giardino un'invasione di cavallette usi di quello che segue l'erba che non serve che ti soffoca le piante usi il viservante stessa cosa è nella mente stessa cosa è in ciò che nella tua mente c'è la parte politica della tua mente che magari ti dà delle idee se affezionato al capitale di marx però c'è una quella un'altra parte politica che è nata magari dieci anni fa un'altra sub personalità nella tua mente che dice sì d'accordo il capitale di marx è giusto però forse è un pochino antico forse adesso bisogna fare un'altra cosa no allora nascono tutte le altre tipologie però c'è anche un'infarinatura religiosa che ha avuto da piccolo e quindi qualcosa cozza con queste cose perché noi cristiano magari se uno di qua un occidentale noi noi diventa cristiano e cristiano poi però comincia a vedere che la chiesa non si sta rivolgendo bene come si deve allora comincia a cambiare allora si rivolge a qualche altro che si generano su personalità quando accade questo cosa si fa di quanti quanti pensieri abbiamo in mente 8 miliardi 9 miliardi beh dobbiamo far riscendere almeno a un miliardo a 500 milioni per stare tranquilli sono troppi 8 miliardi e mezzo di pensieri ognuno pensa per se stesso ognuno con le sue idee ogni pensiero genera altri pensieri e collega come ragnatele ogni pensiero una micro personalità che poi si formano dei gruppi di pensieri noi pensieri politici pensieri religiosi pensieri della della famiglia pensieri dello sport e pensieri di quelle eccetera eccetera beh alla fine alla fine alla fine dell'ottocento fu anche inventato il calcio per questo motivo no le olimpiadi furono le olimpiadi moderne furono fatte per tentare di irregimentare i pensieri quindi è normale che viene chiamato ecologia del pensiero ora dovete capire che nella mente umana ci sono dei pensieri che sono chiamati scalari oppure sono chiamati pensieri aristocratici pensieri mediani ossia aiutanti e pensieri serventi facciamo un esempio di un pensiero aristocratico io credo in dio che questo è un pensiero aristocratico la più alta idea che può essere dell'essere umano e credere in dio nella divinità che ha generato tutto pensiero secondario aiutante come si dice sono le teorie no che i libri reggo sant'agostino leggo san tommaso d'aquino leggo libri di magia leggo libri di filosofia orientale e poi oppure occidentale e questi sono i pensieri aiutanti che sostengono la mia credenza in dio poi ci sono i pensieri serventi sono tutti gli atti normali che faccio mi faccio la croce sto attento di santificare le feste vado in chiesa quindi così come avvengono questi così avvengono su tutte le altre cose e i pensieri aristocratici solitamente sono usi a rimanere fissi mentre cambiano molto spesso i pensieri serventi che sono facciamo conto c'è un pensiero aristocratico nel tuo addio o ci sono pensieri aiutanti che possono essere diciamo un miliardo i pensieri serventi possono essere 8 miliardi no tanti perché tante azioni situazioni parole devono essere puliti perché il mondo va avanti e viene viene modificato no allora questo cosa viene fatto e pensieri aristocratici cioè credere in dio è già un pensiero distrati che c'è un pensiero secondario nobiliare viene chiamato che sono per esempio come lo chiami tu dio gesù tu come lo chiami maometto maometto usate alla tu come lo chiami lo chiamo dino tu come lo chiami lo chiamo buddha tu come lo chiami lo chiamo indra bene questi pensieri aristocrati e nobiliari che sono sotto l'aristocratico sono i secondi proprio secondari degli aristocratici sono d'accordo che alla fine parlano di un ultimo un unico principio 1 il problema è che una volta che sono d'accordo questi poi gli altri hanno a tante altre idee immaginate quando fanno quando lana alla nasa inventano qualcosina no per andare sulla luna come adesso l'indiano di che sulla luna sa perché però nel polo sud per non poter filmare la bandiera che nel polo nord forse visto che sono già esplorato vediamo così ammettendo che la non ci sia sempre perché nessuno lo può dire la prima vista ma abbiamo toccato con le mani no quindi non lo sappiamo dobbiamo credere quindi cosa succede succede che tutti i pensieri aristocratici e nobiliari hanno bisogno di ricambio cioè il pensiero di dio è uno dall'inizio dei tempi i nomi possono cambiare no una volta lo chiami a una volta lo chiami b una volta lo chiami c una volta in siccome oggi si fa un'altra cosa lo chiami z r la prossima volta lo chiami a b c d e f z z e la prossima volta lo chiami così dietro la tempesta un'altra volta il dio cambi i nomi però il principio aristocratico 1 e cosa i fai itali di mezzo questi pensieri secondari distruggi non ti servono più no e questo serve se noi pensiamo alla terra pensiamo alla terra a tante regioni no se li vediamo come una cosa grande noi abbiamo il pensiero europeo abbiamo il pensiero americano abbiamo il pensiero euroasiatico il pensiero russo il pensiero cinese antichissimo il pensiero del sud della della penisola scusatemi del continente asiatico di pensieri indiano che poi influenzato tutti gli altri pensieri che le più indocinesi il pensiero giapponese che di per se stesso non quasi separato dalle cose ci sono sub i pensieri no la cina è grande però c'è il taoismo c'è il cian c'è il confucianesimo c'è un po di cristianesimo però in realtà è quello notiamo che noi se osserviamo da lontano come se fossimo degli astronauti siamo in alto e finalmente vediamo la terra con le stelle però noi le vediamo con le stelle va bene noi vediamo la terra con le stelle e vediamo però la terra che li mentre gira sta terra no oppure non lo so come se è piatta non so si ferma una certa maniera noi vediamo queste aree che sono aree di pensiero queste aree di pensiero sono di solito dieci grazie a lei quindi la cabala quindi chiamato della cabala che strano che tutti coloro che sono assemblati in questo modo di comandare diciamo sul pianeta vengono chiamati la cabala informati la cabala segreta quindi queste aree di pensiero si notate non sono tante contateli non sono tante sono massimo una decina sono no come sono anche le nazioni le nazioni se andate a vedere sono circa 200 in realtà come guarda caso come gli angeli caduti che strano è bellissimo magari sono uno in più uno in meno 200 e qua ma sono lì perché è un numero strano uno si dice a pensare male però questo è sempre simbolico e attenzione e criptico è tutto simbolo ok questi 200 nazioni hanno i loro tre i loro guidatori diciamo di così che poi ci sono sempre quelli più grossi non quello che comanda più più di tutti era la regina isabetta non so cavolo cosa può fare però le comandavano cosa enorme non comanda quindi immaginate questo stava a stare a contanti sub pensieri è un grande e un grande un grande generatore di pensieri quindi nella vostra mente c'è un pensiero generale che dice io sono il migliore io questo è il pensiero più alto che possa arrivare quindi tutto il resto deve essere sottoposto a questi pensieri ma anche chiaramente i pensieri che sono in asia i pensieri che sono in sudamerica no valgono qualcosa magari non valgono come quelli secondo gli altri si mettono d'accordo perché certo che significa metodi d'accordo i pensieri nobiliari o artistici o scusatemi o aristocratici si mettono d'accordo alla fine in dio devono credere o lo chiamo buddha o lo chiamo zoroastro lo chiamo gesù o lo chiamo padre eterno o yahweh siamo d'accordo sì siamo d'accordo pensieri secondari nobiliari dicono sì però ci devono essere io c'ho gli angeli tu cosa c'hai io ci rideva e tu e io c'ho non so c'ho le uri e tu e io c'ho gli dei che sono e tu cosa c'hai io c'ho gli spiriti della terra che benissimo ok possiamo andare sì e poi dicono ma tu ce l'hai chi ci crede a queste cose sì tu sì tu sì benissimo allora dobbiamo fare questo 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 e questo dobbiamo far capire a tutti i pensieri dicono sempre che ne siano i migliori che esiste questo e quindi non dare la verità qual è la verità che non esiste niente tutto questo perché 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 se vuoi svuotate la mente ora veramente avreste quella bacchetta magica di fare così tutto sparisce non ci sono più non ci sono dei non ci sono spiriti non ci sono angeli niente così come nel sono profondo non c'è niente allora ecco che questa cosa avviene ciclicamente siccome la natura è saggia durante la giornata tu hai una testa così per una notte meno male che dormi e dormendo tutto viene distrutto come una maniera o in un'altra anche lo svenimento importante però che non sogni lo svenimento no quindi quindi cripticamente tutti questi pensieri devono essere puliti sono troppi anche perché c'è anche i pensieri meccanizzati cioè i robot automatici nella mente che una volta che sono installati continuano da sé quindi non hai bisogno di tanto casino ha bisogno di calma ha bisogno di azioni di routine automatica e bene e male è una cosa naturale un formicaio se si riempie troppo di formiche accade qualcosa e da un miliardo diventano 200 milioni 100 milioni 10 milioni questo accade anche accade sia con azioni coscienti dall'apparenza oppure con situazioni che accadono no che accadono nella 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 natura perché la natura è legata all'uomo per natura e la mente dell'uomo la natura è nell'uomo e lo ripeto siccome c'è questo legame assoluto se io con dei film vi faccio vedere 200 film che tutti aspettiamo alla fine del mondo aspettiamo che crolla qualcosa aspettiamo che arrivano i tsunami aspettiamo che arrivano l'epidemia da quanto tempo ste epidemia stanno arrivando mamma mia aspettiamo tutte queste cose ma guardate che io lo sto inseminando nel corpo lunare accadono dice no c'è l'agenda 20 30 non serve l'agenda serve inseminare bene ma lo facevano già nei tempi antichi i faraoni lo facevano tutti coloro che erano i regnanti l'hanno sempre fatto con i bandi perché dovevano far sentire i bandi io sono il signore di una città nessuno può dire nulla se non ritaglio la testa pomando le persone che con il tamburo accadrà questo perché volete veramente far paura a qualcuno per fargli una fattura una magia diteglielo ti sto facendo una magia ti faccio così così e così se la persona è sensibile rite li hai inseminato dentro una persona se non è forte la persona crolla anche se non è fatto nulla penso che hai fatto una magia la prima legge che insegnò giordano bruno non pareggi dei ligamenti ma se non so niente non mi succede niente però può succedermi se ho l'idea che mi accada una magia allora di ma potassi a meno che come 10 tempo fa fatevi delle grasse risate però purtroppo la natura automatica essendo automatica quando qualcosa è troppo qualcosa accade è normale vedete io oggi ho scritto un articolo che sarà pubblicato sulla sul sito un articolo su quello che c'è oggi come come era già stato descritto e prescritto letteralmente dai puranas dalle scritte ore alle nostre scritture e c'è letteralmente ciò che sta succedendo vado a leggere c'è letteralmente questo ora che cos'è la digitalizzazione la digitalizzazione è sempre tripiti la mente è una copia mentale di una mente singola che raccoglie tante menti per farlo diventare uno l'unico pensiero il cosiddetto pensiero corretto no political correct cos'è la politica una linea di pensiero ognuno di noi ha i pensieri politically correct se a tavola a tavola dici certe cose mangi in una certa maniera ti comporti in una certa maniera se al cinema in un'altra maniera vai al mare in un'altra maniera se in aereo un'altra maniera se in treno natamente ma che maniera bisogna avere delle buone maniere il galateo non c'è più però di solito c'è questa cosa qua ogni mente quindi la digitalizzazione è una cosa che doveva avvenire perché accade nella mente dell'uomo tentate di capirmi tutte le persone che vedete sono simili a un pensiero singolo ognuno automatico il problema del pensiero aristocratico dice caspita ma ci ho troppi robot che fanno le cose per fatti loro tipo la guerra degli zombie world z eccetera eccetera e che dobbiamo fare bisogna purificare tagliare l'erba questa verrà non è questione di avere poteri traumaturgici ho sempre detto si tratta solo di osservare guardare questi sono i cicli della politica della natura dell'amore mi incontro con l'amo tantissimo l'amore arriva al mar se poi comincia a scende diventa bene ma non è più quel picco assoluto che c'è un tempo c'è il bene un amore più sciolto ma oppure finisce ma questo accade in qua tutto in tutto vediamo un albero direttamente l'albero cresce 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 poi fa le foglie poi fa il blossom insomma fare le le piccole cosa in italiano e poi fai fiori che vengono fuori poi fai frutti cade il frutta terra e ritorna la stessa cosa accade sempre quindi perché ci meravigliamo che accade nella cultura umana deve accadere non c'è niente da fare ogni cosa inizia nasce cresce vive si riproduce muore questa è la legge del 4 chi viene insegnata a chi veramente nelle vere antiche scuole iniziatiche quella è nasci cresci ti riproduci muori e poi ritorni ovunque lo vedi questo quindi attualmente la civiltà sulla terra ha raggiunto dei picchi altissimi ma questo accade anche i tempi di atlantide dicono che non lo posso sapere i documenti dicono così è certo che viene ma così con tutto a chi era un bambino come voi anch'io sono cresciuto come voi anch'io mi sono riprodotto come volo che l'ha fatto anch'io morirò come tutti voi e poi torno sperando di far meglio il problema è dove miro come vivo a livello materiale a livello emotivo a livello di pensiero o a livello spirituale come si può vivere a livello spirituale entrando dentro se stessi ci guarda solo all'esterno come io sto vedendo adesso ci sono miliardi di persone ma vi faccio una domanda guardate un attimo dentro di voi chiudete un attimo gli occhi con me guardate dentro 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 escludete l'esterno gli 8 miliardi 9 miliardi di persone o situazioni animali alberi guardate dentro di voi state dentro di voi sentite dentro di voi cercati di fare ciò che fa l'uroboros guarda tornare dentro mangiate la vostra c'è la vostra coda entrate dentro quante persone ci sono rispondete quanti ce n'è quante ne trovate quante persone trovate trovate solo la vostra coscienza che se pensa di essere qualcosa dice una se la coscienza rilassata dice addirittura nessuno ma sempre la state eppure poi aprite gli occhi gli occhi guardate fuori ma genero 8 miliardi e mezzo di persone o che cosa vi voglio dire attenti perché come ho detto nel caffè precedente l'intenzione di alcune persone di livello alto cosiddetto che sanno questo e di portarvi sempre tentare di portarvi verso l'esterno ma l'esterno ha una brutta abitudine si riempie sempre di più come un palloncino scoppia in natura e avverrà vi impediscono di guardare dentro ecco perché anche la chiesa cattolica di guardate all'esterno e ballata e fate fatti deficienti mentre invece invece di pregare dio pregatelo così dio pregati dio significa entrare dentro se stessi è la pratica del divide ti impera ma anche di guardare fuori guarda fuori di te esiste solo l'esterno esiste solo la scienza esterna esiste solo la fisica e la chimica esterna non è vero che esiste la magia che fisica interna esiste l'alchimia che chimica interna e disse soltanto questa tipologia di religione che facciamo una vita moriamo e poi o andiamo eternamente all'inferno e che è bene ma scusate ma coloro che non sanno il messaggio di gesù questo vale per tutti e vi spingono a guardare all'esterno ora stanno dicendo che ci sarà un cambiamento che ci sarà di qua e ci sarà di l'acide ma questo è fisiologico io ho parlato criticamente prima su ciò che avverrà non è difficile andarlo a collegare e come questa batteria guardate io c'ho più una batteria che che sto caricando è arrivata a 100 una volta che arriva a 100 che succede si possono scaricare noi siamo a 100 stiamo lampeggiando così notate e tutto è stato fatto tutto è stato detto tutto è letto tutto è visto tutto fanno tutti bene o mai non mi interessa tutto fa tutto non c'è nient'altro che succede che c'è un overload immagini viene detto che le uscite sono tre perché la quarta è già dentro di voi immagini vengono generate quattro porte i quattro elementi e si esce da là che poi è dentro se stessi potete sapere dove la porta chiudete gli occhi guardate dietro gli occhi l'ho fatto fare spesso ste cose la portella l'unica porta in là ma scusate una cosa se voi entrati da qualche parte con una porta quando volete riuscire fuori della finestra o dal tetto no no uscita dalla porta e se voi siete entrati sapendo di essere uno in questa vita e poi avete scoperto nella di piccoli eravate uno saprate di essere voi è nato questo sentimento che comincia a vedere la mamma il papà la nonna il fratellino la zia lo zio il cugino la cugina l'amichetto l'amichetta l'amichetta delle scuole della dell'asilo poi diventano 20 30 50 70 200 alla fine di notiamo otto miliardi e mezzo ci sono i documenti se si tocca la quota di 10 bisogna sfoltire troppi capelli che fai di sistemi no io non c'è nessuno mi state capendo che non si possono dire queste cose qua ci devono suggerire perché ripeto così come ho detto dieci anni fa o nove anni fa quello che sta succedendo così accadrà e lo sanno infatti stanno facendo la contrazione finanziaria vogliono dominare no perché sanno come ho detto e lo ripeto che accadrà qualcosa che è sempre accaduta perché la natura è così la natura è una matrimia non è una madre come dico spesso se per caso sta camminando gesù o buddho qualcuno e scivola e cade cade in una in un burrone si spacca la testa uguale magari anche muore non immaginate che vengono gli angeli lo portano su uno accade non sarebbero morti altrimenti la natura è così e fare per tutti la legge è una non c'è nessun'altra legge è una e la vediamo osservando dalla natura nella giusta visione e questo che deve preoccupare che stiamo andando verso questo overload questo cavo acervo di pensieri e di follie che prima o poi finirà vi ripeto ancora guardate fuori quanta gente c'è ma se noi cominciamo il nostro cammino all'interno c'è torniamo e usciamo dalla porta in cui siamo entrati noi stessi conosciamo noi stessi e con la magia ecco la via occidentale come viene data ben bene noi torniamo all'origine e vediamo che siamo tutti uno uno solo siamo 21 notate che anche questo segno che crowley inventò per churchill per la guerra già indica il male il diavolo indica vittoria e cose varie in realtà dice tu churchill sei più alto vinci sui tuoi nemici e venne generato anche magicamente come sigillo indice crea due cose l'opposizione ma noi siamo uno fa in maniera che ti guardi fuori io e un nemico e con me e combatto non ho capito la domanda chi andrà a toccare a tutti specialmente chi sta nelle città l'ho detto da dieci anni fa chi è schiavo di una logica che è generata da altri non può far altro che rimanere schiavo da una logica generata da altri perché non è capace di auto generarsi una libertà da sole la gallina che aspetta il cibo ogni giorno se la metti fuori avrà un po di problemi è un pochino come il leopardo lo metti in gabbia nasce in cattività mangia 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 abituato lo mette in natura sono mangiano subito a lui no e come io una volta ho visto un uccello un uccellino non lo stavano liberando hanno aperto o questo è volato hanno fatto il giro giro è tornato nella gabbia hanno ripreso guardate tornato nel genere la gabbia e sì perché è nato così la porta aperta è sempre lì con la porta aperta il problema essere totalmente ripeto ancora schiavi di questa gente lottare ma stessi indifferenti nel senso che fate le vostre cose sapete le cose le usate voi non vi fate usare gandhi ha scacciato il più grande impero che ricordiamo ancora dal 1500 e che ancora sta lì e che ancora di nuovo sta combattendo che la supremazia soltanto incrociando le braccia e quello che come lo sanno stanno generando una cultura di adesso che è cultura automatica così anche se incrociate le braccia avete perso l'occasione allora bisogna usare la tecnologia altrui per voi stessi usare le cose senza esserne usati allora entrati in uno stato di equilibrio in questo stato di equilibrio per quanto voi sentiate tanti pensieri nella testa ci siete soltanto voi e se come diceva anche qualcuno rimane ancora più sereno svanisce pure quel senso di essere se stesse si allarga la porta da cui sei entrato e l'infinito se diventavo piccolo da piccolo ritorni a essere infinito la gabbia rotta in magia si dice tre sono riuscite da marco dalla ma dal corpo fisico uno di fuoco uno di di terra l'acqua quello di aria ce l'hai già dentro perché pensi e sono sia uscite fisiche che uscite psichiche il problema è che voi non vi girate verso voi stessi guardate sempre di fronte a voi stessi il dominio viene quando vengono aumentati i desideri dei sensi cosa sono i sensi i sensi percepiscono oggetti cos'è un oggetto un pensiero diventato fisico se tu pensi ad essa una rosa la pensi e la immagini questo è un pensiero ma se tutto chi vedi la rosa e l'annusi quel pensiero è diventato fisico è un processo naturale della mente che rende fisico un pensiero appare ai sensi in realtà è sempre un pensiero che oggettivato all'esterno ed è quello che vogliono fare voi torna voi essere libero torna all'interno il mondo svanisce trovare per credere e questo il viaggio interiore cos'è l'iniziazione della magia occidentale un viaggio interiore che deve essere interpreso dentro se stessi dove si scopre l'esatto opposto ma in maniera più grande e migliore del mondo fisico esterno sono due ciò che in alto come ciò che in basso invece di a farsi un viaggio con la macchina per andare da milano a venezia che fai un viaggio all'interno di te inizi con certe tecniche alla fine entri in un mondo interiore a cui ho insegnato spesso e non è chi dice fantasia rimane il viaggio interiore da sempre descritto nelle mitologie descritto nei film e sto e quello che sto tentando di farvi fare ora leggiamo un attimo come si consiglia il fatto che siamo tutti uno con il fatto che si debba avere un anima individuale per poter proseguire esiste dal di là del corpo con la stessa individualità è semplice se sei tutto uno e come se hai un'intelligenza di formicaio un'intelligenza generale è come se sei la regina di un alveare tu hai l'intelligenza gli altri sono cose quasi automatiche semi intelligenti vuoi essere veramente immortale devi riuscire a essere sempre col senso di uno di unità ma anche mantenendo il senso individuale che attenzione non è leggo senso individuale viene mantenuto dal corpo lunare che è un'energia magnetica che all'essere umano che ha la capacità di racchiudere la scintilla di coscienza reale che è eterna e assoluta ma facendo rimanere permanere il senso di assoluta eternità qui nella materia mangiando camminando guardando vedendo sentendo non si è diventata nessuna parte qui la più alta riuscita sia per l'alchimia per lo yoga per l'advaita per la filosofia per la magia per tutta la teurgia e qui sveglio oggi ora in questo istante con tutte le funzioni del mondo fisico individuale ma con la coscienza assoluta questa è l'immortalità al questa è la libertà perché tu sei il signore e poi godere di ogni cosa ma quando non guardi sono fuori quando comincia a fare anche il viaggio interno per arrivare dicono gli ermetisti al monte a biennus cioè uno stato di coscienza talmente alto che chi l'ha provato dice io no vive nell'estasi assoluta nella materia la usa la materia ma non è schiavo questa è la vera neutralità e statica iniziatica tu senti percepisci i lavori dai ma sei qui nessuno ti dice abbandona la materia l'idea di abbandonare la materia che è data dai padri cristiani dai padri musulmani dai padri indù è sbagliata dove devi andare se sei uno è tutto qui dove vai e svegliati queste istituzioni sono per farti guardare fuori e quindi essere dominato leggiamo un secondo grande a te questa lezione d'aiuto verso l'umanità ti ringrazio ogni volta un grande stupore emozione grazie un saluto a te massimo caro o come impressione che tutto questo si opera del demiurgo ai suoi accordi potrebbe parlarne chi è come afferma la scienza ammonio e sognatore questo qui è la scienza ammonio dice una cosa esiste una coscienza assoluta questa coscienza assoluta genera perché non può fare a meno di generare come il sole e lì è eterno il sole mica vuole generare i fiori e lì e luce e vita e i fiori nascono perché la materia è germinativa quindi appena arriva questa forza diciamo così nasce genera e non è che togli ci aspetta voglio generano e lì ok stessa cosa avviene questa coscienza questa coscienza emana tante piccole coscienze diciamo così è come fare e tante piccole gocce che è una particella della coscienza grande noi dobbiamo mantenere questa coscienza per essere liberi ma quando scendiamo giù noi abbiamo una piccola particella immagine un'altra cosa immagine il sole immagine uno specchio cade a terra in tanti frammentini ogni frammentino uno di noi e noi riflettiamo quella luce ma non sappiamo di essere questo quella luce ecco l'esperienza che cosa accade accade di conseguenza che se noi lavoriamo iniziaticamente che poi alla fine lavorare iniziaticamente non diceva beh ma alla fine uno deve arrivare lì no non ci arriva lì può stare miriadi e miriadi e miriadi di eoni finché non c'è conoscenza rimani lì perché sei eterno non puoi morire quindi può solo tornare la maledizione no allora ecco la scienza sacra che dice ti insegno ad avere ad avere tutto uno non puoi soltanto andartene da una parte e qua rimane perché questo fa parte dell'essere che tutto l'uovo e uno quindi puoi godere di tutto ed ecco che la scienza sacra ti insegna se una persona è seriamente intenzionata a farla non si fa ma devo andare a cinema e ma ho incontrato quella ragazza ho incontrato quell'uomo e ma ha incontrato quello ama devo andare lì va se è serio cioè maturo genera una forma secondaria la propria mente dalla propria perché essendo figlio della coscienza grande ne genera un'altra che rimanga che tenga che tenga questa coscienza individualizzata ecco l'immortalità ma con il contatto con la grande 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 coscienza di conseguenza cosa accade una volta che questo accade due con le scelte o verticale o orizzontale questo risponde con la tua domanda se scelgo l'orizzontale il verticale o io lascio perché ti dice no l'alchimista o è il corpo svanisce e io divento coscienza enormità capaci di generare nuovi universi capaci generare nuove coscienze fate si dice l'essere umane un'anima genera infiniti spiriti pensieri ogni pensiero è vivente che non ci pensi più ma reti fissi con un pensiero della vita per avanti e la tua vita la stessa cosa che è successo del demiurgo questo è il che non è cattivo è una cosa che farai anche tu un domani che arriverà ai massimi livelli questo avviene perché è un gioco continuo se scegli la via orizzontale che è quella uguale che è quella di cui sto parlando che quella completa non c'è completezza sempre senza il coagula quelle sono solve allora è quella che generi tutto godi tutto vivi tutto assolutamente totale beato colui che c'è proprio scritto in tutte le scritture in tutte le istruzioni mentre mangia beve ama parla gioca ride così alla coscienza dell'assoluto questo è la verità allora lì è uno ma in molti allora lui stesso è uno in molti questa verità perché si riguarda inteduce solo all'esterno se in molti notate questo mantenere questo equilibrio è la massima cosa molto simile alla filosofia buddista ma non è che sono simili la verità è una se leggete la filosofia buddista è così la filosofia advaite così la filosofia azorastriana così la filosofia monia così la filosofia socratica e così la filosofia platonica e così la filosofia della rosa croce alta e così la verità è una questa è la filosofia questa è la conoscenza tradizionale che poi si è frammentata secondo i popoli e le idee nel buddismo si parla del vuoto la gente non l'ha capito si parla dell'irvana che si pensa che uno si perde invece non è così teniamo presente che proprio per far capire che è così mentre il buddha storico il sacchia muni diede delle istruzioni che le potete vedere negli antichi scritture buddiste che sono molto materiali se vogliamo bene generato poi anche il filone tantrico che è quello di vivere godere la vita perché il tuo diritto ma avere la coscienza divina è questa è la cosa giusta è quella che non mi vogliono far avere che se avete la coscienza divina di come dovete fare questo vaccino perché morite quando ma se non sono mai nato come faccio a morire e allora il potere caldo grazie a te salve quindi colponare coagulato in un certo senso non è soggetto a questa legge no non è soggetto a questa legge perché ti dà la possibilità di contatto e come se tu hai una tuta una muta per entrare sott'acqua e quindi vivi sott'acqua ti togli la tuta vivi nel ti metti in un'altra muta per andare nello spazio però tu sei cosciente che sono vari rimanati corpi per questo motivo sono da indossare realmente sono forme magnetiche dalla più densa più sottile illuminazione illuminazione e sì perché perché la coscienza e luce quando di solito chi incontra o con rituali o con yoga o con magia o con alchimia no le grande oeuvre viene chiamata la grande luce o con col samadhi cosa vai c'è l'esperienza è una luce perché la coscienza e luce poi nella luce c'è e consapevolezza nella luce appagino la coscienza non confondiamo coscienza e consapevolezza la consapevolezza e luce assoluta in questa luce assoluta appagino le coscienze cos'è una coscienza io sono consapevole di questo mouse cioè sono cosciente di queste esiste questo mouse nella mia luce consapevole io sono cosciente di questo mouse ma sono anche cosciente di questo carica batterie quindi le coscienze sono diverse della consapevolezza le coscienze possono essere infinite la consapevolezza è una viene chiamata in so fa ora insomma fine poi manuela dice maestro la psicosi e coscienza frammentata e non resta assoluta nel caso si soffra di psicosi come si ricostituisce l'unitario prego devi entrare dentro di te te lo ripeto una coscienza divisa frazionata e che ha tanti robot interni che dicono la loro devi entrare dentro e dire la tua devi sapere che se il sito denti dentro di te in un viaggio particolare in te ora sembra quasi uno yoga questo è l'inizio ed è simile ma la magia occidentale mesi va a fare un viaggio vero e proprio proprio chi usa le immagini la conoscenza le situazioni per portarti a conoscere ogni frazione frazionata la prende la osserva la integra la prende la osserva la integra in un viaggio ci sono altre tipologie di tecniche ma questa è la tecnica classica magico occidentale che usa molto l'immaginazione che la creatività dice un grande maestro no disunale maestro dice le opere qualsiasi opera non può avere riuscita di liberazione perché non è il contrario dell'ignoranza il contrario dell'ignoranza è solo la conoscenza la conoscenza la danno soltanto le scienze tradizionali neanche la scienza la scienza di per tutta la vera conoscenza spirituale questa scienza è stupida per chi non è reale agisce qui per quello che deve agire fino a un certo punto perché se io sto sentendo caldo al dici al dito abbiate pazienza mi devono operare al dente non posso prendere l'anestesia benissimo allora che fanno viene un ipnotista mimima e io non sento niente di fan e allora se è reale il dolore reale il nervo e reale l'azione che viene fatta perché non lo sento e ma tu sei stato gestionato perché cosa chiesi geschi e suggestionato state capendo quindi esiste veramente questa cosa bisogna che esiste nel pond nel punto in cui c'è esiste nell'istante in cui c'è come dice qualcuno l'universo si muove in una maniera che sembra che esistano quindi vivi ma la scienza normale la scienza che vediamo è solo esterna ma se noi iniziamo il viaggio interno e cose cambiano perché internamente vuoi volare puoi vedere a distanze infinite puoi dire voglio essere andare sul sirio arrivi sul sirio ma sono solo immagini accordo poi avrai tempo come diceva crore all'epoca non c'è problema per poi avrai modo per adesso fallo e poi ai riscontri esiste un mondo dentro di voi infinito voi siete una porta siete questo voi siete questo qui all'esterno quello però qui all'interno arrivate da scusatemi arrivate da qua uscite attraverso la porta e qui all'esterno finché guardate solo qua soffrite avete paura vede pure di morire ma quando potete morire se non vi ricordate neanche di essere nati nessuno è presente la nascita nessuno è presente alla morte si fa me l'hanno detto c'è scritto alt te l'hanno detto lo so che sembra strano te l'hanno detto non l'ha sperimentato la verità sapete cos'è la sperimentazione reale diretta in prima persona se non c'è dubitate qui entriamo nell'alta metafisica ammonia però a noi ci basta entrare dentro di noi e spesso ho detto entrate dentro di voi generatevi un posto personale generatevi un una specie di punto silenzioso tanto che addirittura le forze speciali di qualsiasi genere viene insegnato che se vieni preso come prigioniero di generare in te con tanta gente di generare entramente generare un posto personale una stanza un modo da essere solo hanno preso dalla magia viaggio interno quella è la libertà poi ormai nemmeno discussioni militano fai bene rimane nella pace dopo sette otto anni che la seguo sono nella strada giusta per arrivare ad avere non so come chiamare il potere di liberarsi se ti senti solo equilibrato però uno con tutti ma senza problemi e senza paure se è un punto il problema è avere l'idea di avere solo il corpo fisico non è così perché il corpo fisico sparisce ogni notte non lo dice solo la filosofia orientale lo vediamo un po dormiamo non c'è più allora la morte quella no la sperimentiamo ogni notte la sperimentiamo una morte cosiddetta morte ma nessuno è presente la nascita e la morte quindi non è un'esperienza nemmeno sono un pensiero se voi se voi non avreste il pensiero di morire avreste paura parte questa domanda ottimo michele bravo però usarà le cose per vivere bene poi mettendo un buongiorno nel ricordo di visionare film si si branded e di noi eccolo qua lo andiamo a visionare lo guardo sarebbero ne ne facciamo me lo scrivo qui grande così voglio brand ed ok lo troviamo così facciamo magari una bella una bella grazie del della della cosa poi è da appena una settimana la seguo ho trovato su facebook il suo insegnamento mi risuona pienamente ti ringrazio non è che il mio insegnamento è è la tradizione ho sempre retino dico nulla di mio 0 sono le mie esperienze personali e dico le persone più intime questa è la tradizione che io ho ricevuto e che sto dando questa è la pura tradizione ogni cosa è deviata questo io dico solo quello che la tradizione e quindi è chiaro che lo senti di suonare perché fa parte dell'essere umano dell'uomo della donna questa è la verità e ricordate una cosa una cosa esiste nell'istante che viene vista un essere un angelo un demone una persona è vivo ed è reale nel piano in cui si manifesta e poi e poi dovete sperimentare reale lì così ogni cosa quindi attenzione perché vi stanno generando una realtà che non è vera ma voi siete sicuri veramente che tutto quello che vedete è vero a partire dalle guerre a partire dalle immagini di casa armata ma siete sicuri ne siete proprio certi molti anni fa mi capitò durante le meditazioni accorgermi che c'era dentro di me due figuri uno di luce una urea nera traccia stroncade una linea violetta in entrambe ero io sì certo noi abbiamo una parte luminosa una parte che respingiamo che oscura viene chiamato in magia l'angelo d'oriente l'angelo d'occidente o il demone buono diceva grip il demone cattivo ma cattivo nel senso che alla fine dobbiamo incontrarlo perché sono tutte le cose che la società ci ha fatto respingere quello non va bene allora diventa viene messo da là però non va bene mentre questa idea non va bene allora diventa noi cattivi magari sono noi veri non voglio dirlo il golem cabalistico centro qualcosa con questo posto interiore di creare beh se vogliamo io ho dato anche delle istruzioni quasi nessuno ha fatto tempo fa pochi io l'hanno fatto un po così di generare una specie di golem direttamente e addirittura trasferire i propri difetti a questa a questo golem in modo che possa che che potesse prendersi lui e poi ho dato anche istruzioni di generarlo per poter influire su certe cose guarda caso si dimise una certa persona vabbè comunque no più che altro è una generazione di un posto dove ti senti solo tranquillo isolato dove ti puoi estraneare anche se sei in mezzo a un sacco di gente lo insegnano di tournette forse speciali quando un tempo lo insegnavano anche in vietnam quando venivano presi gli americani perché andavano lì oggi questo cosa per tutti insieme nelle carceri viene insegnato ma immaginiamo insegnato con un'altra cosa è stato preso da lì ok quindi per comprendere la luce all'infinito può essere utile anche l'asse orizzontale ma senza perdere di vista mi mai quello verticale in equilibrio non mi sento per nulla buono grazie a te la realtà è o verticale o orizzontale e la realtà della croce viene detta quindi ma non solo quello quello verticale lo dico sinceramente non è generale non è reale perché sono un solfe un solve alla fine la realtà è come prendere un uovo e separare il bianco dal rosso l'uovo per generare un pulcino e deve quindi poi un uccello quello che sia deve essere bianco e rosso e l'uovo è ori verticale orizzontale l'illuminazione non preclude dal fare per fare l'amore da mangiare gustare un bel piatto di pasta dalla da farsi un viaggio da godersi l'acqua del mare perché sai che è sempre parte della realtà e la realtà e c'è inutile dire tutto illusione ma dov'è illusione se tu dici che illusione la la materia stai dicendo che dio illusione perché dio è la materia la dea chiamarla come volete si manifesta come materi manifesta mezza materia si manifesta l'uovo è uno quindi come posso dire che illusione l'ora devo capire di godermelo ma senza essere schiavo il segreto è quello alla fine signori miei la realtà è una ognuno diventa ciò che pensa perché ha talmente una potenza mentale talmente potente che neanche vi rendete conto che voi generate quello che vivete quello che pensate generate è inutile che non si sgola ma è difficile farlo capire allora siccome così se ti mettono pensieri dentro come in questi ultimi tempi tu diventi come ti dicono gli altri tu pensi che sia così e quindi tu non diventi come tu pensi ma in virtù della legge che ognuno diventa come pensa ecco che ti mettono altri pensieri tu diventi come loro vogliono che tu diventi ecco l'esterno ma l'iniziazione la libertà e tornare dentro se no non ce n'è non ce n'è possibile le vie sono quelli poi dopo avete detto che a roma c'è qualcosa di nascosto che riguarda saturno si può sapere cos'è ma a roma roma è la base della saturnia tellus che venne generata dopo la disco la disco la discorso della distruzione della precedente con lo sprofondamento della saturnia tellus che c'era anche nel martirreno adesso purtroppo ne stiamo avendo un'altra idea con con le di un po i terremoti dei campi flegrei e cose varie e quello che è successo poi anche tempo fa sì mi devo ricordare mi raccomando scrivetevi sul mio canale telegram infosapienzoammonia chiocciola gmail.com e vabbè addio infosapienzoammonia e basta perché mi sono preso con questa situazione infosapienzoammonia così andiamo a parlare ancora meglio aspettando un po di iscritti in modo da poter fare delle cose come si deve infosapienzoammonia ricordatevi che sabato c'è il come si chiama il seminario su nezza liberazione della coscienza attraverso i film perché come ho spiegato i film hanno a che fare con le immagini le immagini hanno a che fare con la magia stanno facendo magia su di voi ve lo dimostro ok poi attivamente invece di sveglio servo come una tabella con dei segni neri sono se mi sveglia non sono nel sonno profondo e cosa equivale quelle sottile quelle il lunare osservo questi segni quelle il lunare e il lunare un attimo quello è il lunare quindi è una certa coscienza già verso il lunare è buono perché non saresti qua no chi è qui già c'è l'asta coscienza in mezzo immortale deve soltanto rendersene conto deve generarla se consigliarmi una tecnica per non soffrire di solitudine e se già tu ti senti sola hai bisogno di qualcosa all'esterno ma se tu intraprendi il viaggio interno non ti sentirai sola cosa puoi fare a chi si sente solo lo ripeto ancora creati un posto mentalmente e vedrai che in questo posto verranno esseri mentali che sono immagini e pensieri ma che sono molto simili a ciò che la realtà essi che sono reali per te questi aiutano vengono chiamati gli amici interiori che non niente a che fare con le doppie personalità e triple genera un posto genera un posto in te stessa e popolano con le persone che ha fidati funziona una grande questo però attirerà anche persone all'esterno e quindi la solitudine verrà spezzata perché si diviene ciò che si pensa se con te stessa si però bisogna raggiungere lo so è vero agar ma bisogna raggiungerlo questo bisogna raggiungerlo per dire ma partendo da questa tecnica c'è chi ancora vede ha bisogno di di questo allargamento quindi magari questo passo grazie poi ripeto canale telegramma e qui c'è anche il link scrivetevi se vi piace mettetemi un like ma alla fine non fate come gli altri no mettete con un like perché mi aiuta a farci allargare un problema ma a portare in questo periodo questo messaggio a un po di gente grazie a te grazie grazie fate questa cosa fai questa cosa può migliorare qualcosa anche se ciò che dice la gara e reale poi osservare come quando eravamo bambini con stupore e vedere la bellezza mi piacerebbe tornare lì ma è semplice non devi tornare ci sei sempre smetti di guardare le cose come gli altri ti hanno detto di guardarle non è così guardare come le guardavi guarda le tue di rio sto guardando il mare l'acqua le quello che sia e questo non non pensare già dire sto guardando saturno che so che c'è gli anelli e una forma di gas è stupida la cosa perché non è sicura guarda saturno guarda la luce di saturno e non sai cos'è questo porta allo stupore reale poi nezza liberazione della coscienza attraverso i film è il giorno 2009 2023 se siccome si parla del film il mondo nuovo del new world che è difficile da trovare chi si scrive si arriva la mail chiaccia e si scarica il film e l'abbiamo sottotitolato ok se questo il gioco del demurgo corre sempre andare oltre e conoscere in effetti non sono nemmeno devoto alla malvagità si bisogna andare oltre ma alla fine tu diventerai demurgo se fai questo fine diventerai demurgo meno che non scegli la via orizzontale di reincarnazione continua sia apparizione sparizione reincarnazione direi quasi è un termine che uso ma in realtà non è neanche reincarnazione diciamo svegliarsi e ridormire svegliarsi ma ricordando questa è la libertà la libertà e avere tutto quello che vuoi vivere come vuoi avere come vuoi godere di cosa quello che vuoi ma senza esserne schiavo con la conoscenza della libertà con la conoscenza dell'assoluto quindi usare l'oggetto senza essere schiavo dell'oggetto ecco perché si parte dalla neutralità iniziatica c'è equilibrio usa l'oggetto ma non ti fare come dicevo un grande iniziato se ti turba qualcosa se un desiderio una passione di turba portalo deliberatamente a soddisfazione e discioglitene che non ci pensare più poi se torna alla fine tu diventi il padrone di quella cosa questa è la libertà libertà non è volare andarsene nelle sì allora significa avere la capacità del dell'essere in se stessi dell'essere qui ma aperto ad ogni sensazione percezione visione di tutti i possibili mondi di tutte le possibili percezioni di ogni cosa e sapere quando vuoi guardare all'esterno e appare il mondo o vuoi guardare all'interno e appare il cosiddetto se oppure il cater oppure te stesso lo scegli chi sta invece in mezzo l'ermetista è quello libero perché usa senza essere usato con la coscienza divina non va nella parte dall'altra ed è eterno si dice che frangermenne l'uguale era così poi come si può creare questo posto immaginalo il demurgo va integrato tenesci da se tu entri il demurgo e il misticismo ti integri al demurgo ti fai assorbire e torni tu devi trascenderlo devi andarne fuori e come se il demurgo come se fosse la pancia della mamma una volta che c'è non puoi tornare lì per essere riassorbito la base da me devi scioglierti no un feto purtroppo magari muore e vieni riassorbi tutte le energie esorbita nel corpo della madre questo essere integrarlo devi andare a separarti immaginano questo posto cosma immagina immagina un posto chiudi gli occhi immagina tranquillamente un posto entri comincia a creare che in una stanza un posto un prato verde una qualcosa che ti piace sentiti lì gene vedrai che addirittura sarà pure popolato e allora capirai che significa la strada il lunare e questo è la base dell'immortalità una mattina non riuscivo ad uscire da un sogno di natura una fino a quando non mi sforzano modificando sentivo mia madre all'esterno mi sono svegliato con nei punti incrociati sul petto mai successo e allora c'avevi la doppia con la doppia con coscienza alla fine la coscienza generale la coscienza è sempre presente di tutti gli stati che abbiamo no terra acqua aria e fuoco solo che noi ci piace andare un pochino su e giù come con l'ascensore nei piani e mentre siamo al terzo piano dimentichiamo quelle del secondo andiamo al primo piano dimentichiamo quello del quarto piano in realtà la vera coscienza è che noi siamo coscienti tutti e quattro piano riguardo i segni da sostituirli il simbolo tipo del solito su mare io guardo con un certo timore si trasforma in segni più beh certo che puoi sono tu e tuoi e sono mentali certo il sole è un segno meraviglioso anche se ci tiene schiavi alla fine quindi modificali ricordati un segno rappresenta una realtà interiore perché un simbolo modificando quel segno modifichi la realtà interiore e se continui si modificherà questa è una delle chiavi per potersi modificare cioè se penso sempre a una cosa o alla pasta asciutta o penso soltanto alla bellezza femminile o penso soltanto alla bellezza maschile o penso soltanto alla juventus penso soltanto alla ferrari così ho pensato mi formo quella maniera è difficile se invece io lo muto mi viene in mente una certa cosa e muto quella cosa è la muto la prima la seconda ho detto prima l'opposto questo mi cambia e poi dipende cosa metto nella mente questo genererà ricordati i pensieri primari secondari e terzi anni ho compreso come divenire insegnatore non essere sognato così proprio così va bene quale argomento usare con una persona che non crede che alla morte del fisico esiste l'anima che che prosegue è semplice è semplicissimo di lì pensi sì sogni sì bene questa materia la cosa la pietra le cose fisiche pensano sognano no bene pensalo vedi lo sperimentano però ti dico una cosa qui entriamo nella maturità spirituale chi diceva kremmers una cosa molto interessante questo è fargli capire una pietra è un essere vivente l'essere vivente c'è l'anima si muove una pietra no anche un cane si muove che sogna di notte può dire che c'è la nota se ne va e tonici ma è una cosa soluzionamente fisica e qui entriamo nella maturità perché come diceva kremmers per fare questo che ti dico devi avere spiccata una certa sensibilità la sensibilità del corpo sottile dello spirito se per caso non ce l'hai questa sensibilità occorre qualcuno il maestro chito le impianti se una persona non ha quel livello di sensibilità non può farci nulla nulla non può farci nulla è questione di sviluppo ecco le persone che hanno bisogno di tanto di questo e persone che sono molto avanti e sviluppate quindi io non perderei neanche tempo perché pensa quante energie tu bruci da usare per te stesso grazie saluto a voi bene io vi saluto spero che sono chiaro all'inizio vi raccomando se vi interessa nezza liberazione della coscienza attraverso i film il 29 2023 scrivetevi scaricate il film lo vedete così ne parliamo perché non c'è in italiano e poi iscrivetevi su il mio canale telegram si può parlare molto meglio vedete io parlo criptico ma lì si può parlare quindi iscrivetevi così parliamo con più chiarezza va bene info sapienza ammonia ci avete anche il link va bene poi bene vi saluto e lavorate perché perché veramente non sapete quando scende la sera lavorate non è niente perso quello che fate adesso vi rimane per dopo mi ha detto una persona quanto vorrei ricordare ciò che sto facendo adesso ma certo che lo ricorderai non lo ricorderai subito coscientemente ma ce l'avrai come carattere quindi più lavorate più quando vi risveglierete nuovamente per l'altra esperienza visto che magari desiderate ancora i sensi no voi ricorderete dentro e quindi sarete spinti verso quella direzione nulla è perso è in bene male e non vi fate fregare da quello che vedete perché è la natura la natura dirige queste persone a fare certe cose non c'è nessuno colpevole e la natura è chiaro non credete che c'è il maligno che c'è questo e quest'altro è un modo molto basso per far capire alla gente che c'è qualcosa in mali soli il maligno e visto qualcosa si distrugge ma non è così il vostro corpo se non distruggerebbe le vostre cellule ogni giorno crescerebbero talmente e diventereste un tumore vivente morireste quindi quindi diventa maligna il fatto che c'è la capacità catabolica di distruggere le cellule che è di regolarle e di regolare la capacità catabolica c'è anabolica di crescere c'è catabolica e anabolica metabolica scusate metabolismo crescere catabolismo distruggere e negativo no anche il diavolo è buono se spese pensiamo al diavolo se distrugge quello che poi deve rinascere senza giuda gesù non c'era lo so che è un'eresia ma è la verità qualcuno doveva dirlo e allora dai ma lui era il diavolo ma c'è stato al gioco però pensate di queste cose non pensate soltanto cose che vi dicono gli altri va bene usate il cervello anzi la mente perché c'è non pensa nella mente che pensa arrivederci grazie 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 grazie